Grazie a tutti. Sono un calciatore. Quando ero una bambina, la scuola aveva proposto questo sport che si chiamava canottaggio. Prima che me ne sono accorta ero diventata vice campionessa del mondo. Solo ho scoperto questo sport che era un po' fuori moda perché tutti quanti i miei coetani giocavano a calcio. E' iniziato giocando a calcio a tre sulla sabbia l'estate. Il primo titolo mondiale che abbiamo vinto a Denver nel 1989 perché abbiamo riportato un oro in Italia che mancava da 31 anni. Quello dei mondiali di Siviglia è stata la prima volta che un equipaggio femminile ha preso una medaglia per l'Italia. La coppa dei campioni con dei tiri liberi quasi a fine partita che sono stati decisivi per il risultato della squadra. Ho cominciato ad avere molti problemi alla schiena e non riuscivo a completare gli allenamenti senza dover smettere. Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato, mi hanno fatto l'onore di darmi l'incarico di direttore tecnico. Bisogna sempre ricavare almeno un po' di tempo per dedicare allo studio perché un giorno, purtroppo, per tutti noi, lo sport a questi livelli finisce. Sport è salute, è stare insieme agli altri. Bisogna fare tanto sport e parlare. Forza Lazio! Forza Lazio! Forza Lazio!